Salve a tutti! Adesso parliamo del primo prodotto esclusivo della nostra azienda composizione minerale Coral Mine. Coral Mine renderà vostra acqua alcalina, ricca di minerale e bioaccessibile alle cellule. Noi siamo composti al 70% di acqua e con gli anni questa percentuale cala. In pratica il processo di invecchiamento è il processo di disidratazione. Guardiamo un po' che cosa beve la gente durante la giornata. Caffè, tè, succhi, bibite gasate. Bibite gasate sono piene di conservanti acidi. Nell'ambiente acido si sviluppano molto in fretta i virus patogene e i batteri. Caffè, tè e succhi non sono i liquidi ma sono alimenti per le nostre cellule che impegnano molte energie per la loro assimilazione. L'acqua invece è l'elemento più leggero. Qual è l'acqua migliore per la nostra salute? Quale acqua bisogna bere? Acqua deve essere pulita, deve avere il pH neutro, deve essere leggera, cioè deve avere bassa tensione superficiale, deve avere potenziale ossido riduttivo negativo. L'acqua Coral Mine corrisponde a tutti questi parametri. Di 2500 coralli solamente il corallo sango ha composizione e struttura analoga alle osse umane. Che cosa fa il corallo con l'acqua? Composizione Coral Mine regolarizza il pH dell'organismo, arricchisce l'acqua di calcio nella forma ionica, contiene il 34% di calcio e 66% di micro e macro elementi che sono indispensabili per l'organismo umano, trasforma acqua potabile in acqua viva, strutturata e aiuta l'organismo a vivere più a lungo. Che cosa ottiene una persona bevendo questa acqua? Si rigenera il sistema vascolare e aiuta a prevenire infarti ed ictus. Si rigenera il tessuto fibro-ossio. Si normalizza la pressione sanguigna. Immaginate una persona che regolarmente beve acqua Coral Mine. Già dopo qualche giorno si normalizza il suo sonno, l'intestino funziona come un orologio svizzero e con il tempo passa la sindrome dalla stanchezza cronica. Secondo me, l'acqua così buona serve alle persone. Nel mondo bevono questa acqua già da 20 anni. Io e la mia famiglia viviamo acqua Coral Mine tutti i giorni e siamo contenti del risultato. E' la mia famiglia viviamo acqua Coral Mine. Grazie.